Sul fronte Covid-19 in questo periodo che continua purtroppo ad essere segnato da una forte preoccupazione in relazione all'aumento dei contagi e da mille difficoltà vissute un po' in tutti gli ambiti, arriva una bella storia di gioia e di speranza dall'ospedale Maria Santissima Adolorata di Biancavilla. Dopo 68 giorni di ricovero in terapia intensiva a causa del coronavirus, una donna di 65 anni, Adranita, ha vinto la sua battaglia ed è tornata finalmente a casa. Parole piene di gratitudine quelle che ha rivolto al personale medico ed infermieristico che nell'arco di questi lunghi 68 giorni si è preso cura di lei. Siete stati meravigliosi e gentili, ha dichiarato la donna, mi avete salvato la vita e vi siete presi cura di me, fate andare avanti la Sicilia, siete valorosi. La donna che è stata trattata con terapia off-label che combina l'uso di due specifici farmaci, uno antinfiammatorio e un altro antivirale, è stata sottoposta solo a ventilazione non invasiva. Fino ad oggi, così come riportato dall'ASP di Catania, 17 risultano essere i pazienti affetti da covid trattati con questa terapia grazie alla quale per 10 pazienti non si sarebbe rivelata mai necessaria la ventilazione invasiva. Attualmente i pazienti ricoverati presso la terapia intensiva del presidio ospedaliero Maria Santissima Adolorata di Biancavilla risultano essere sette di cui due intubati. Voglio ringraziare il direttore generale, il dottor Maurizio Lanza, il direttore sanitario, il dottor Antonino Rapisarda per la loro attenzione e la fiducia nei nostri confronti, ha dichiarato il dottor Antonio Magri responsabile facente funzioni dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Maria Santissima Adolorata di Biancavilla. Insieme al dottor Ciadamidaro, ha continuato, hanno dotato il nostro servizio di un'ulteriore possibilità di cura dei pazienti con covid. Un plauso, ha aggiunto il dottor Magri, lo rivolgo agli infermieri e agli operatori sociosanitari del reparto che con amorevole attenzione, professionalità e dedizione si prendono cura di tutti i pazienti ricoverati e ai colleghi rianimatori che nonostante le difficoltà assicurano il loro impegno in prima linea e senza soste. La terapia adottata si rivela essere promettente, ha specificato il dottor Magri. Dai dati in nostro possesso possiamo anche noi confermare migliori tempi di recupero per i pazienti e la riduzione delle giornate di indegenza media dell'indice di mortalità e del rischio di intubazione per quei pazienti sottoposti a ventilazione non invasiva. Attenzione però, ha concluso il dottor Magri a non abbassare la guardia contro il covid.